eccomi o mio amato e buon gesù che alla santissima tua presenza prostrato ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede di speranza di carità di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti mentre io con tutto l'amore con tutta la compassione vado considerando le tue cinque piaghe cominciando da ciò che disse di te o mio gesù il santo profeta davide hanno forato le mie mani i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa